Non hanno mai giocato insieme e questa stagione lo faranno con l'obiettivo della promozione. Sono i fratelli Ignacio e Gonzalo Martinez i nuovi punti di forza della DRL Polli Belluno. Nuovi per modo di dire, Ignacio torna a Tre Dolomiti dopo aver lasciato Belluno nel 2018, mentre Gonzalo resta nel roster dei Noceronti cambiando ruolo, non più libero ma schiacciatore. Ignacio dopo aver disputato l'ultima stagione in Atria a Montecchio Maggiore, arriva invece a coprire il ruolo di palleggiatore al fianco di Filippo Maccabruni. Sono contento di essere tornato, mi sono trovato super bene quando ero qui. Conosco l'ambiente, conosco la società e sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. Gli obiettivi personali e di squadra sono chiari? Gli obiettivi societari sono alti, io penso che siamo una buona squadra, possiamo puntare in alto, possiamo fare secondo me molto bene. Quello di Gonzalo invece è un nome già conosciuto ai tifosi dei Noceronti. A Belluno dal 2019, dopo una stagione da libero, ecco il cambio di ruolo. Sicuramente cambiare ruolo è un'avventura nuova, è un ruolo che non ho mai fatto. Io inizialmente facevo il palleggiatore al volo di Treviso e dopo l'aner 16 ho cambiato ruolo a fare il libero. Penso che sì che è una scelta azzardata, però penso che possa dare i suoi frutti. La stagione 2023-2024 sarà la prima con la stessa maglia per i fratelli Martinez. Mamma sarà contenta perché doveva guardare una sola partita, scherzano, e sul rapporto tra loro... Sarà bello, sarà bello. Speriamo appunto di non litigare troppo, ma non penso. Ormai, come ho detto prima, siamo grandi, vaccinati, quindi speriamo che tutto vada per il meglio. Papà e mamma diciamo buono spettacolo.